Ed ora il punto di Andrea Rangone, direttore degli Osservatori Politecnico di Milano. Finalmente fu matta bianca per il debito federale americano. In realtà i mercati finanziari non hanno mai messo in dubbio questa soluzione. Lo dimostrano chiaramente i tassi di interesse sui titoli di Stato americani, che sono sempre rimasti per tutto il periodo della crisi stabili a valori molto bassi, assai vicini a quelli dei titoli tedeschi, considerati in assoluto i più sicuri. Ma anche tutti i protagonisti politici della vicenda, Obama, democratici e repubblicani, non hanno certo mai messo in dubbio questo punto d'arrivo. Quello del debito pubblico americano infatti non è mai stato un problema finanziario, ma un problema squisitamente politico, strumentalizzato dalle parti in gioco per portarsi a casa benefici importanti per i rispettivi elettorati, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Nessuna delle parti in gioco però si sarebbe accollata la responsabilità politica di un default finanziario, che avrebbe avuto ripercussioni molto negative sull'economia reale degli Stati Uniti, riducendo la crescita già abbastanza limitata del PIL e dell'occupazione, responsabilità che gli americani avrebbero fatto pagare salatamente alle prossime elezioni. Per oggi è tutto, Tigione Economia torna domani. Grazie per averci seguito e arrivederci.